Oggi altro video brevissimo ma che tornerà veramente utile a tutti gli utenti che utilizzano il Norton 360 quindi oggi si parlerà di antivirus però solo di attivazione questo video perché? Perché ci sono stati alcuni utenti che mi hanno chiesto dove di solito si va a inserire il nuovo seriale se non acquistiamo per esempio un Norton in qualche negozio, in qualche punto vendita dove andare a inserire il seriale perché molti purtroppo non trovano questo servizio all'interno del pannello di controllo di Norton 360 e quindi tendono a disinstallare tutto il Norton a reinstallarlo nuovamente quando chiederà ovviamente il seriale nuovo e poi ovviamente è una procedura davvero lunga lunga quindi in questo caso io vi spiegherò perché effettivamente Norton su questo è spettacolare come antivirus secondo me è il primo di quelli a pagamento Norton quindi ve lo consiglio sempre e continuerò sempre a consigliare almeno anche per tutto il 2024 però su questo effettivamente c'è una piccola pecca perché non è molto intuitivo per i suoi utenti quindi spero che il mio video verrà guardato da qualche persona che abbia a che fare comunque con Norton e magari può pensare di prenderla come un consiglio insomma per tutti questi utenti che hanno lo stesso problema quindi farlo diventare un pochettino appetitivo magari con il classico tasso destro del mouse inserisci nuova miscenza, inserisci seriale e in questo caso magari è molto più semplice per tutti gli utenti perché dove è inserito è raramente una zona dove effettivamente non c'andrebbe nessuna persona all'idea di andare in quello comunque cambiamo inquadrature e vediamo subito dove si va a inserire il nuovo seriale per Norton 360 allora Norton 360 dobbiamo andare soltanto in basso a destra la ricognita di nuovo quindi doppio clic e si aprirà direttamente il Norton una volta che siamo su questo primo pannello non dobbiamo fare altro che andare su apri perfetto e qua c'è il pannellino questo lo possiamo mettere anche piccolino dietro se vogliamo per non confonderci e qua abbiamo il pannellino, il secondo pannellino dove noi possiamo andare a configurare il backup, le prestazioni, la sicurezza e tutto quello che vogliamo allora in questo caso è dove si va a inserire praticamente il seriale perché qui effettivamente andando su account, impostazioni, report, impostazioni si cerca per mare e per molti proprio perché manca anche facendolo con lo stesso tasto destro da qua manca proprio la vocina inserisci il seriale nuovo o il codice di licenza quello che sia ebbene si va inserito in un punto dove nessuno se lo aspetta nel punto interrogativo proprio quindi stranamente dico c'è questa iconcina che non c'è in canulo che perlomeno non fa capire a tutti gli utenti effettivamente questo proprio punto interrogativo è una zona dove si va a inserire il seriale senza bisogno di andare a disinstallare tutto il pacchetto Norton e magari a perdere qualche impostazione salvato qualche programma inserito nella nostra backlist oppure whitelist in questo caso andiamo direttamente sull'iconcina del punto interrogativo una volta che abbiamo aperto l'iconcina e si è aperto questa altra rotmata come potete vedere in basso c'è intanto lo stato dell'abbonamento quindi se sta per scadere o no per quanti dispositivi abbiamo acquistato il nostro Norton e soprattutto la quantità di backup però sotto come potete vedere abbiamo immetti la chiave del prodotto eccola qua trovata quindi non ci rimane soltanto che andare a cliccare su immetti la chiave del prodotto e andare a inserire il nostro seriale che possiamo grattare per entrare nella nostra scheda prepagata come che sia se la andiamo a acquistare per entrare nel negozio una volta che è fatto tutto ovviamente possiamo ottenere il tutto e separerà normalmente il nostro Norton con i giorni ovviamente non in questo caso abbiamo il nostro abbonamento senza aver dovuto disinstallare, fatta la pulizia, reinstallare che comunque richiede perché mi ricordo che per installare il Norton dobbiamo andare nel pannello nostro nel My Account, il My Norton Accounting quindi in questo caso si perderà ovviamente molto questa è la tecnica quella più veloce però utenti ripeto molti utenti non riescono a provare ecco spiegate dov'è nel punto interrogativo quindi direttamente da ora in poi sapete come andare a sostituire i vostri seriali nel Norton 360 ciao a tutti